Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa, questa l'ipotesi di reato contestato a quattro gestori di tre diverse sale scommesse situate nel territorio terramano. Una operazione della Guardia di Finanza di Teramo che questa mattina ha portato al sequestro di attrezzature tecniche presenti all'interno degli esercizi pubblici. Nello specifico la sala scommessa è denominata Aleabet Sita Imbellante alla Via Nazionale, stessa insegna per quella di San Nicolò a Tordino in Via Cristoforo Colombo ed infine la BET 1128 Sita a Teramo Centro in Viale Bovio. Dall'attività svolta dagli agenti della Guardia di Finanza è emerso che le tre sale esercitavano abusivamente la loro attività di raccolta e gestione telematica di scommesse a favore di un bookmaker straniero senza essere in possesso dei requisiti normativamente prescritti senza licenza di polizia e della concessione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le tre sale scommesse esercitavano per conto della Phonix International LTD, società con sede a Malta sprovvista di concessione governativa e di licenza, già nota le cronache, in seguito ad altre attività dedite al contrasto dell'illecito collegato al gioco d'azzardo. Sotto sequestro sono finite tutte le apparecchiature tecniche, pc, maxi schermi, stampanti, terminali per la concessione telematica, modem e ricevute di scommesse. Indagati per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco quattro soggetti italiani, tutti teramani. I provvedimenti di sequestro sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Teramo su istanza del Pubblico Ministero.